L'onorevole Ida Carmina, deputato del Movimento 5 Stelle, interviene su Agrigento Capitale della Cultura 2025 esprimendo forti preoccupazioni per il ritardo e il mancato avvio della macchina organizzativa a distanza di nove mesi dalla straordinaria vittoria, momento di speranza per la rinascita di Agrigento e della sua provincia, perché proseguendo così si corre il rischio di sprecare un'occasione unica per il nostro territorio. Ho partecipato, afferma il parlamentare di Porto Empedocle Ida Carmina con entusiasmo il 31 marzo scorso per questo grande riconoscimento, manifestando apertamente Agrigento Capitale della Cultura 2025 con Lampedusa e gli altri comuni inclusi in questo progetto, almeno per Tabulas, un progetto che in prospettiva si palesava innovativo, di rilancio economico e turistico, di speranza per i cittadini e che però va realizzato nei modi e nei tempi giusti, invece a distanza di dieci mesi e ormai a meno di un anno dall'inizio dell'evento, paraprasando Fraiano ad Agrigento, la situazione organizzativa è molto grave ed è molto seria. Non possiamo, continua la parlamentare Empedoclina, permetterci una figuraccia internazionale a cui rischiamo di andare incontro per via di questa incomprensibile dilatazione dei tempi con annessi in ritardi. Non pare ancora essere stata individuata una guida definitiva nella macchina organizzativa, ma anche il voto del nuovo statuto della fondazione da parte degli altri soci fondatori. Non vorremmo, continua Carmina, che si fossero innescati personalismi e soliti tira e molla della politica, come se invece che un'opportunità per il territorio si tratti di una torta che non si riesce a spartire. Nulla si sa dei 44 progetti, di cui 17 internazionali da porre in essere, intanto il tempo passa e oggi si ha il serio rischio di fare un flop e non ce lo possiamo permettere. Le beghe politiche si sono dimostrate un freno. Da parlamentare e da già sindaco di Porto Empedoclo invito pertanto tutti i soggetti interessati ad attivarsi e dare concretezza a quei progetti. Gli slogan non incantano più nessuno. Si è vista la corsa di alcuni parlamentari regionali a mettere bandierine sull'arrivo di un contributo di 10 milioni di euro da parte della regione siciliana, che ora però sono stati tagliati a metà dell'importo e sono scesi a 5 milioni, sperando che queste risorse arrivino veramente. Occorre far partire senza ulteriori ritardi la macchina organizzativa. Lo statuto non è stato approvato dagli altri importanti soci fondatori, come il comune di Lampedusa e l'Equa. Io non vorrei, conclude la Carmina, che il motivo fosse legato alla solita guerra di spartizione di poltrone e primizie, che altri ritardi sul cronoprogramma sarebbero di danno per l'Agrigento e gli agrigentini.